siamo in onda siamo in onda buongiorno ragazzi benvenuti sono siamo in collegamento qui dalla esa e dalla nasa del progetto stiamo lavorando sul progetto probello e sono qui perché abbiamo analizzato i vostri progetti quelli per il lender per poter atterrare sulla luna e voglio farvi complimenti perché veramente tanta roba non mi sono ancora presentato comunque siamo sono l'ingegnere mcmante a lavoro con il capitano il capitano mi ha incaricato di analizzare i nostri progetti come stavo dicendo veramente tanta roba complimenti abbiamo trovato veramente delle idee molto interessanti vi dirò probabilmente copieremo qualcosa ma io qui lo dico e qui lo nego perché abbiamo dei progetti soprattutto per andare su marte per andare su titano stiamo cercando valutando di andare anche su europa e avete avuto delle idee che sinceramente parlando non è detto che magari un giorno guardando l'allunaggio su titano direte ma quello l'ho fatto io comunque dei progetti che abbiamo che abbiamo visto abbiamo visto un gruppo di persone io sono a portavoce abbiamo scelto il progetto che nel lender che si chiama triato in cui autori sono jacopo alessio e tommaso è stato scelto perché ci sono delle idee molto interessanti anche quello di mettere di mettere dei serbatoi sulle zambe per l'ossigeno che una cosa che in realtà non aveva mai pensato nessuno mettono tutto dentro e perché ha le dimensioni degli oblo che sono quelle corrette perché tene conto anche della pressione atmosferica interna e esterna prevede tutti i piccoli reattori per correggere tutte le traiettorie generale comunque assomiglia molto anche a quello dell'apollo 11 che è stato quello di più successo anche se un po vecchiotto però sappiamo benissimo che le cose vecchie che funzionano a noi vanno sempre bene in generale questo nome dell'under triato ci è piaciuto anche il nome devo essere sincero è molto originale e vorrei fare i complimenti a jacopo alessio e a tommaso per l'idea e perché abbiamo scelto il vostro progetto cosa succede adesso? succede che qui abbiamo una trentina di ingegneri che stanno lavorando su questo progetto e sulla base di quanto avete mandato noi stiamo facendo uno sviluppo ingegneristico aerospaziale e fra un po' di tempo non molto riusciremo a mandare alla classe probabilmente attraverso una SD un progetto di un lender che potrete stampare con la vostra stampante 3D vediamo un po' mi dicono sì mi dicono che sono quasi pronti in realtà siamo già abbastanza avanti quindi non dovrete aspettare molto per avere questi progetti e mi raccomando credo che il capitano ho sentito anche il capitano è molto contento di come avete lavorato e quindi io da ingegnere da buon ingegnere una volta che ho detto le mie cose non so mai più che cosa dire e quindi ne approfitto per salutarvi per ringraziarvi e speriamo che ci sia un'altra collaborazione in futuro di questo genere perché avete veramente delle ottime idee vi ringrazio ancora a nome del capitano vi ringrazia a nome degli ingegneri vi ringraziamo e a nome di tutte quelle missioni future che useranno anche un po' delle vostre idee vi ringrazio anche per questo buona giornata a tutti e vi saluto dall'ingegnere Mike Mante a voi classe vi ringrazio anche per l'ingegnere